Fenomeno comportamentale riguardante gli adolescenti e i giovani posti da cui si ricetta la vita pubblica e si tende a evitare qualsiasi scordegno sui nostri casi internazionati con i geni sull'apporto con la tende quindi a isolarsi E' molto più facile scrivere ad un computer che parlare con una persona in carne ed ossa Isolante, è vero? La metro, tutto questo vuoto Grazie